caro amico attorettatore benvenuto in questo nuovo video oggi ti presenterò il soffiatore typhon shenzhen un soffiatore doppio motore da 2800 watt che dispone di regolatore di potenza e anche di due pulsanti dove puoi azionare semplicemente i motori per avere la massima potenza e aria tiepita oppure attivare anche il resistore insieme con il soffiatore disporrai di un tubolare e tre ugelli di regolazione d'aria ti spiego come funziona il tubolare rispetto ad altri soffiatori classici questo qui è un tubolare a incastro quindi non dovrai semplicemente infilarlo ma lo incastrerà in modo tale che così alla massima potenza il tubolare non andrà via ti spiego anche come effettivamente non ti brucerai avendo questo tubolare in mano se utilizzerà il soffiatore per più tempo disporrai di una guaina di protezione che ti consentirà appunto di utilizzare il soffiatore di tenere il tubolare senza bruciarti ti raccomando di avvitarlo come ti sto facendo vedere in modo tale che così tu potrai effettivamente usufruire del soffiatore in maniera corretta adesso lo agganciamo vedi che lo incastro e inseriamo un ugello di regolazione stessa modalità di incastro della parte principale questa era la minima potenza questa invece è la massima potenza dove puoi trovare caratteristiche tecniche più specifiche sul nostro sito e commerce www.torettare.com e scoprire anche le offerte dedicate insieme con il soffiatore Shenzhen ti aspetto